Io stavolta voto perché voglio che il mio futuro sia un'Europa e in quanto sportivo voglio riuscire a muovermi per l'Europa come se fossi in Italia, liberamente. Io stavolta voto perché la possibilità di scegliere il mio futuro e di diffondere il concetto di democrazia. Io stavolta voto perché l'Europa deve rispondere alle preoccupazioni dei cittadini.